La vittoria più bella in uno degli appuntamenti più prestigiosi della propria storia per il Gravino pesa come un macigno invece la sconfitta per il Foggia che scivola in terza posizione scavalcato dal Sorrento e ora a cinque punti di ritardo dalla capolista Bitonto ritrova la via del successo dopo sette turni di astinenza e due sconfitte consecutive la squadra di Valeriano Loseto nonostante le pesanti essenze per squalifica di Romeo e D'Angelo in difesa e di Pro si in cabina di regia prima gioia del 2020 per i gialloblu si interrompe sulla Morgia dopo nove risultati utili di fila invece la serie positiva dei rossoneri di Nini Corda poco cinici negli ultimi 11 metri e penalizzati dal rosso di Fumagali dopo un quarto d'ora c'è il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del vicino non può essere diversamente sostenitori che spingono il Gravina sin dalle battute iniziali Ficara dimostra di essere in palla disegna il traversone Santoro calcia al volo ma la difesa rossonera riesce a cavarsela la replica del Foggia è affidata a Tortori conclusione debole nessun problema per vicino episodio culo al quarto d'ora in favore dei locali Santoro lanciato dal proprio estremo difensore prova a saltare Fumagali che interviene con le mani fuori dall'area di rigore per il direttore di gara e rosso diretto ospiti in dieci uomini tra i pali ci va di stasio si incarica dalla battuta sulla successiva punizione lo stesso Santoro che sbaglia completamente la mira provano a sfruttare la superiorità numerica in gialloblu sventola a metafrazione di di modugno e attento l'estremo rosso nero provano ad alleggerire la pressione gli uomini di corda Tortori è impreciso dalla distanza più insidiosa è la conclusione successiva di cittadino ma la sorte è la stessa ci si mette anche la pioggia a complicare la partita che poi cambia volto a cinque minuti dal riposo Santoro guida la ripartenza crossa verso il centro ospiti in affanno Bozzi non ne approfitta Ficara da due passi invece si gravina in vantaggio risultato che resta intatto poi sino all'intervallo perché su una situazione provvediente da palla inattiva vicino non trattiene ma nelli spreca tutto da posizione favorevole per i rossoneri 1 a 0 a metà gara la ripresa si apre nel segno dei murgiani Santoro obiettivo dei foggiani durante il mercato dicembrino viene servito da Bozzi si presenta davanti a distasio ma deve fare i conti due volte con la superlativa risposta dell'estremo ospite resta in bilico il punteggio El Wasni dalla parte opposta a calcio sul fondo con la soluzione di incrociare ci riprova poco dopo di testa ma senza inquadrare ancora una volta lo specchio buon momento per gli uomini di Ninni Corda cittadino su punizione decentrata sbaglia però tutto El Wasni suo invitante cross di Tortori non sa incidere ancora di testa soffre il gravina ci crede il foggia che cerca con insistenza il pareggio nonostante l'inferiorità numerica i murgiani però quando hanno la possibilità di mettere il sigillo al successo non se la fanno sfuggire Ficara servito da correnti entra in aria decide di mettersi in proprio e raddoppia per i suoi doppietta per lui 2 a 0 gravina che sfiora il tris poco dopo con Santoro di Stasio gli dice ancora di no gli ospiti provano a riaprire la contessa El Wasni di testa sfiora il bersaglio dalla parte opposta il neo entrato Bottari sul suggerimento di Santoro trova sulla sua strada un sontuoso di Stasio finisce così 2 a 0 al vicino il gravina torna a vincere si porta a più 3 sulla zona play out e domenica c'è il derby della murgia d'altamura il foggia scivola a meno 5 dalla vetta del girone h la missione riscatto farà tappa lo zaccheria nel derby con il cerignola anche il prossimo turno dunque promette spettacolo